A Teramo si accende la discussione sul futuro del Tribunale. Da una parte l'idea dell'avvocato Luca Pilotti, nonché consigliere comunale del PD, che ha proposto la maggioranza guidata dal sindaco D'Alberto di realizzare un nuovo palazzo di giustizia nell'area ex villeroi della Gammarana, previa trattativa con il gruppo Gabrielli che ha acquistato quello spazio anni fa. E dall'altra il neocomitato al quale hanno aderito diversi avvocati, tra cui Tommaso Navarra, presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nato per difendere e valorizzare l'attuale edificio del Tribunale di Teramo. Quelle aree non sono del Comune di Teramo, quindi noi ci dovremmo fare il carico dell'acquisto da un soggetto chile privato che fa giustamente i propri interessi, anche all'esito peraltro, lo dobbiamo ricordare, di un vincolo di archeologia industriale che rende particolarmente complesso un intervento di rifunzionalizzazione di un sito industriale in una strutturalità di efficienza per il servizio giustizia. Tutto questo con il vincolo di archeologia industriale. Ebbene, noi abbiamo in alternativa proposto quelle aree importanti, amplissime, che si trovano in contiguità con l'attuale Palazzo di Giustizia, dove nell'ex autoparco è dietro i palazzi finanziari, quindi con una quantità di spazio immediatamente raccordabile con il Tribunale perché vi è un confinamento diretto, un confine chile diretto, senza creare ulteriori vuoti e lasciando, anzi ripristinando la sua monumentalità storica imponente, il Palazzo di Giustizia, lasciarlo in uso il quale chile aule di udienza, come era il 30 anni fa quando abbiamo iniziato a chile frequentarlo. Abbiamo chile costituito tra chile amici senza pretesa di rappresentanza generalizzata, ma solo quale contributo di analisi e di ragionamento un comitato. Il comitato naturalmente produrrà i documenti che verranno messi a disposizione della cittadinanza e soprattutto di quelle forze sociali, politiche e culturali che vorranno ragionare con noi sul futuro della città. Ecco, non facciamo strappi. La città non è un luogo indistinto di palazzi ed edifici, ma è un luogo ragionato di chi le funzioni.